Ciao, mi chiamo Anna e ho conosciuto l'agenzia tramite un annuncio che avevo messo su subito. Sono stata contattata telefonicamente da Enrico che mi ha proposto di vendere a casa con questa agenzia. Mi sono trovata subito bene perché comunque Enrico è una persona molto alla mano che mette a proprio agio le persone quindi ci siamo visti subito dove c'era appunto il locale, l'appartamento e poi ci siamo accordati per i dettagli sulla vendita. Insieme abbiamo venuto a casa in circa un mese e mezzo, un mese e mezzo sono stata contattata e ho fatto la proposta che ho accettato e sono stata molto contenta. Consiglierei assolutamente l'agenzia perché sono seri, affidabili e quindi se dovessi consigliare assolutamente sì. Grazie, ciao!